domenica 14 giugno alle ore 15 primo ciclo di seminari e incontri per gruppi scelti lezioni di scrittura e officina del raccontare primi fondamenti dalla sceneggiatura alla poesia l'arte di costruire un racconto un romanzo e un film domenica 14 giugno dalle ore 15 informazioni 347 42 59 528 email arte d'attore chiocciola gmail.com facebook arte d'attore di natalia florescaia